Ma poi che lo parla più in latino? Ma certo che ho comprato il De Bello Gallico Suo figlio è molto bravo in latino Mater istruitus, figlius pure Che tostorai, mi dè il suo numero di telefono? Che in latino iniziamo? Però suo figlio con la perifrastica La perifrastica Tibi, revocanda, fides est Cesar Cicerone esorta Cesare a ristabilire la fiducia nello Stato La fides nelle istituzioni della Repubblica Devastata dalle guerre civili Nel far questo è di ricorre a una costruzione tipica del latino Che si chiama perifrastica passiva Una costruzione che esprime l'idea di necessità e di dovere È detta perifrastica perché è formata dall'unione di due elementi Un gerundivo, nel nostro caso revocanda E una voce del verbo sum, nel nostro caso est E una voce del verbo sum, nel nostro caso è di ricorre a una costruzione